molto vero molto molto vero effettivamente sei bravo parole ma coi pugni come te la capi you're good with words but what about the punches cazzo fratello adesso mi spacco di botte bravo parole ma che fa qui una bevuta gotham ehi amico mi dai un bicchiere per l'acqua certo è un mostro e poi beve la sprite va bene questo lo faccio anche io molto spesso è acqua quella ma sempre lui c'è le voci le fa tutte lui ha fatto qualcosa oddio fa pure dragon ball ah scusate no 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 ehi 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 aspetta un momento cosa è una telecamera ma la voce non cozza la faccia per niente ah sì c'è è un'altra persona ma perché hanno tutti la voce bella in sto cazzo del mondo l'ha fatto pure al maestro ma come ha fatto pure al maestro quella del maestro da potremmo eccolo ah no no questo dolore è un dolore che è insopportabile qualcosa che il mondo non ha ancora imparato a capire oh no no this pain is an un bearable pain something that the word has not understood yet è incredibile cipi cipi cioppa cioppa rubi rubi ma roba ma chi co chi rubi rubi è una canzone questa patta sembra quasi quella che ho dato l'altro giorno a tua madre sai la direbbe il maestro la direbbe effettivamente il maestro sa pure quello su di te no come ho ma che ho l'oddio sull'astornico fammi vedere il naso mario ma perché non si vede cioè che che battuta è let me see your nose mario yo what can't you see it what kind of joke is that bocca caga uscite curita esci melo tutto mario ma cosa il naso voglio dire chi ha il naso grosso ma è fortissimo zi ma è fenomenale l'opposto di the real marza se gli streamer italiani parlassero nel modo opposto cosa succederebbe scopriamolo con il marzone ma i taralli o a me sinceramente fanno cagare a che schifo conosci questo simbolo questo lo portano i cristiani se gli streamer italiani parlassero nel modo che la submoce è quello che gli è andato più virale però ha commentato anche speed sopra c'è il tuo dove sono io non mi vedo official deluxe eccolo improvviso il doppiaggio di max sui content creator italiani oggi blur cazzo fratelli sto imparando a fare il sorriso nike andiamo a cercare loro su d max è sempre quello alla fine sapete per forza aspetta ho detto per forza ragazzi ma io sono invecchiato in un anno sono 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 invecchiato in una maniera indecente ma che cosa mi è successo ma si parte invecchiato perso pure i capelli cristo santo i capelli deciso i capelli no no al cazzo che sono i capelli un pochetto mamma mia buh vabbè guarda guarda il bel pischello io dormo in piedi ragazzi è l'ansia già mo è l'arcol vabbè è l'aria è l'aria è l'aria africana dai è l'aria africana sei un giaggetto in turchia non te lo toglie nessuno grande clip questa voglio vedere quello di moccia ma perché ragazzi vado su quello di moccia e mi apre questo qui ma improvviso il doppiaggio di max sui content creator italiani oggi mario doccia cosa ne pensi di one piece allora me fa cagare dario dacci uno di quei bambini nella cantina no sono miei dario qual è tuo anime preferito your name ovvio improvviso il doppiaggio di max sui content your name omega lull un fenomeno bravissimo un bravo ragazzo ma molto molto un bravo ragazzo effettivamente